Il 31 ottobre del 39 Orson Welles legge in diretta radiofonica il suo adattamento in stile cronaca della guerra dei mondi in cui annuncia lo sbarco dei marziani sulla terra. E il mondo, signori e signore, ci crede. E grazie al suo immenso talento espresso in giovanissima età sia in radio che a teatro che Orson Welles si guadagna un contratto senza precedenti presso la major hollywoodiana RKO a soli 25 anni. Oltre alla ovvia somma in denaro viene ingaggiato come regista con udite udite totale libertà creativa. E vi ricordo che siamo nella hollywood classica, quella delle regole, quella della produzione in serie, quella dello studio system. La RKO stava scommettendo. Welles era l'oggetto del desiderio di tante major che però erano intimorite dal suo estro creativo, dal suo talento spesso trasgressivo e incline allo scandalo come testimonia all'aneddoto iniziale. Avevano paura che se anche l'avessero posseduto non l'avrebbero potuto domare. E dopo l'assurdo contratto che riuscì a strappare con la RKO tutta hollywood tremò. Se un regista coi pieni poteri sui suoi film avesse avuto successo forse l'intero studio system sarebbe stato messo in discussione. Beh dopo svariati decenni possiamo però dire che no. La RKO non vinse la sua scommessa e lo studio system sopravvisse al terremoto Wells. Orson al botteghino fu un disastro tanto da essere licenziato dalla RKO dopo soli due film. Al contrario però tutta la critica rimase estasiata dal suo lavoro. Pensate che Eric von Stroheim, altro regista cardine dell'epoca, strillò su tutti i giornali pieni poteri a Wells. Ed è un dato di fatto che la sua influenza sul cinema successivo è tipo indescrivibile. Ma che cosa c'è di tanto innovativo, di tanto sovversivo nel cinema wellsiano? Prendiamo l'esempio del suo primo e più importante film, Quarto Potere, del 1941 da tantissimi considerato il miglior film della storia del cinema. Innanzitutto contro ogni precetto della Hollywood classica Orson struttura una narrazione labirintica non lineare per seguire le vicende del magnate della stampa Charles Foster Kane interpretato dallo stesso Wells. Tra l'infanzia e la vita adulta Orson ci racconta il personaggio tramite vari episodi, tramite spezzoni di vita narrati in ordine non cronologico. E a noi spettatori viene lasciato il compito di interpretare questi episodi e di conseguenza di ricostruire la personalità di Kane. Al contrario del cinema hollywoodiano che puntava su una sceneggiatura classica e di ferro e che non lasciava alcun dubbio allo spettatore su chi fosse buono e chi fosse cattivo. Anche i temi wellsiani erano per così dire sovversivi. Il suo Charles Foster Kane venne visto da molti come la rappresentazione sul grande schermo di William Randolph Hearst, altro magnate della stampa americano nella vita vera. Soprattutto da Hearst stesso che cercò di impedirne in tutti i modi la realizzazione e successivamente la distribuzione. Ma che il film fosse effettivamente un attacco a Hearst oppure all'imperialismo mediatico in generale poco importa. Orson non aveva paura di parlare di attualità, di portare idee politiche nei suoi film e questo all'epoca faceva molta paura. Ma non finisce qui perché Quarto Potere ha rivoluzionato il modo di fare cinema anche da un punto di vista tecnico. La Hollywood classica faceva ampio uso del montaggio. Seppur spesso cammuffati gli stacchi erano usati in gran parte per dirigere l'attenzione dello spettatore, per mantenerla costante con continui input visivi e per rendere il più possibile chiara la narrazione. Le inquadrature limitavano lo spazio scenico mostrando soltanto gli attori con in bocca le battute. E soprattutto la scena si svolgeva su un unico piano d'azione. Lo sfondo era banalmente semplicemente uno sfondo e non doveva distogliere l'attenzione dai protagonisti in primo piano. Ecco con Orson Welles, dimenticatevi tutto questo. Il nostro infatti utilizza la cosiddetta profondità di campo. Prendendo spunto da alcune scene del cinema di John Ford, Orson sceglie di strutturare le sue scene su più piani. Anche lo sfondo diventa vivo, importante e parte integrante della scena. Sullo sfondo potrebbe muoversi l'oggetto dei discorsi dei protagonisti in primo piano, oppure potrebbe fare la sua comparsa un personaggio importante e inaspettato in quel momento. I campi wellesiani sono poi lunghi, spesso veri e propri piani sequenza, che quindi eliminano il montaggio. Fanno percepire il movimento e quindi la camera agli spettatori, ma gli permettono anche di vivere la scena con il tempo della realtà, passo passo, senza mai abbandonare i personaggi. Dopo Orson Welles il piano sequenza e la profondità di campo, usati tantissimo nel cinema delle origini, tornano di moda. Sono di nuovo una scelta registrica valida, dinamica, moderna, in totale contrasto con le regole della Hollywood classica. Ora potete capire il motivo del suo fallimento al botteghino. Per gli spettatori dell'epoca guardare Quarto Potere era come guardare un oggetto alieno, inaspettato, mai visto e oltretutto di difficile comprensione. Dopo Quarto Potere Orson fece soltanto più un film con la RKO, L'orgoglio degli Emberson, e soltanto più un film ad Hollywood, La Signora di Shanghai. Dopo il 1948 fu cacciato da Los Angeles, bollato come autore maledetto perché floppava sempre, e continuò la sua carriera in Europa fino alla sua morte nel 1985. Non prima però di aver ricevuto l'Oscar alla carriera nel 1971. Esattamente 30 anni dopo Quarto Potere, quindi, la Hollywood che così tanto selvaggiamente l'aveva rifiutato fu costretta a riconoscere la sua grandezza. Prossima settimana, Hitchcock. Un altro caso autoriale, a martedì.